Con Richard Benson noi stiamo facendo un'esperienza molto bella perché il nostro grande chitarrista, rock e anche critico musicale sta dando insieme a noi una seconda possibilità a dei ragazzi che hanno partecipato alle selezioni per Sanremo che però all'ultima selezione di Baudo scusate se mi ripeto sono stati scartati e adesso ne abbiamo due anche stasera, come va Benson? Va molto bene anche perché mi hanno detto che questa sera oltre ad una figura femminile che mi pare che già si è presentata al festival ha un pezzo, un bel pezzo e questo mi fa piacere e poi mi hanno detto che finalmente c'è un capellone, io sono venuto apposta per vedere questo personaggio nuovo, con i capelli lunghi, finalmente! Mi fa piacere che lei sia di buon umore, un applauso a Richard Benson No, sono di ottimo umore! Che bello, così la vogliamo, bravo Benson! Allora conosciamo la prima, è una donna, si chiama Alina direttamente dalle selezioni di Sanremo, Alina! Benvenuta Alina! Grazie! Alina canta il mio spazio, prego! Vieni qui, guardami un po', cosa c'è che non ti va? Quello che si dice di noi, ma che ti importa? Se non sai cosa fare, gianta via le paure Che ci fanno stare male e fanno dire cose che non puoi, inutili per noi, vi voglio i sogni miei Perché sono così, fammi vivere un po', a tutto quello che sento, basta dire no Il mio mondo è così, provo a viverlo un po', tutto quello che cerco veramente, voglio è solamente uno spazio per me Il mio mondo è così, perché non esiste, non esiste, non esiste che Baudo non l'ha messa a Sanremo Ma è la prima volta! Grazie! È la prima volta! Grazie Alina! Sono con Benzo!